E' un telegiornale che è seguito negli ultimi anni, una nuota televisione regionale, non voglio dire altro, voglio prima lanciare la sigla. Bene, vince il premio Simpatia Montis Silvani, il TG6 dell'emittente TV6 di Silvi Marina. Tre per definizione è il numero perfetto, tre è anche un numero fondamentale nella Kabbalah così come nella simbologia della religione cristiana. Tre sono anche gli anni consecutivi nei quali il nostro telegiornale ha vinto il premio Simpatia Montis Silvani, che viene assegnato ogni anno a personaggi illustri d'Abruzzo, politici, uomini e donne di spettacolo e con il quale si gratifica il lavoro di un anno in televisione. Il TG6, il nostro ma soprattutto il vostro telegiornale, se lo è aggiudicato per il terzo anno consecutivo. Non era mai accaduto e siamo stati i primi a farlo. Questo ci riempie d'orgoglio e di soddisfazione, ma ci dà anche una responsabilità in più, quella di fare sempre meglio. Quando nel 2013 TV6 lo ha vinto per la prima volta, in molti si sono sorpresi. Gli stessi organizzatori in primis. Il nostro TG era una new entry nell'albo d'oro. Ieri sera, alla consegna del riconoscimento per la terza volta consecutiva, la sorpresa era su quale fosse la nostra ricetta. Non ci sono ingredienti segreti, ne bastano due, passione e lavoro. Passione per una professione che la fai solo se la ami in maniera viscerale. E lavoro, tanto, perché senza di quello non vai da nessuna parte. A questo però vanno abbinati anche l'utilizzo di tecnologie e strumenti di lavoro sempre più sofisticati, ma che ti permettono cose che fino a qualche anno fa erano impensabili e questi sono oggi indispensabili. Lo ha capito bene il nostro editore, Quintino Pallante, che non ha mai fatto mancare nulla per poter arrivare ad offrire un certo prodotto. In una televisione privata regionale l'informazione rappresenta l'80% del lavoro quotidiano e soprattutto è quello che i nostri telespettatori vogliono. Tutto il resto è contorno, importante ma contorno. Informare bene è quello che proviamo a fare ogni giorno con la competenza e la professionalità dei nostri giornalisti e le capacità e la bravura dei nostri tecnici. Continueremo a farlo, se possibile, ancora meglio, perché tre anni non ci bastano. Non è una gara di bravura, sia ben chiaro, ma quasi una missione per chi lavora tutti i giorni con la stessa passione e la stessa volontà di quando ha iniziato. Lo facciamo per noi ma soprattutto per voi, che ci seguite e ci apprezzate. E come ogni giorno, lo ripetiamo sempre di più. Grazie per averci scelto. Buona serata a tutti. Grazie a tutti.